Abbiamo delle grossissime perplessità, nel senso che viene fuori questo progetto nuovo, tutto da verificare, da valutare. Rimangono ancora tanti per l'associazione No Smog i dubbi sul risanamento ambientale, il futuro dell'attività della ferriera di Servola, che ieri Giovanni Ervedi ha prefigurato nel segno della totale eliminazione dell'inquinamento. L'abbiamo dimostrato a Cremona, con lo stabilimento di Cremona, che è una serie completamente ed ecologicamente compatibile con inquinamento, si può dire, uguale a zero. La stessa filosofia con la stessa impostazione etica ed industriale e tecnica la faremo qui a Servola. Ma le rassicurazioni non bastano all'associazione ambientalista. Finora diciamo che sul profilo ambientale dell'area a caldo non abbiamo visto svolgere alcunché di significativo, per cui le emissioni continuano pesanti, situazione in zone pesante. E quindi ci stiamo chiedendo dove si va a parare. Si parlava di riconversione. Insieme a Tasso, oggi il sindaco Cosulini ha ricevuto anche i due parlamentari triestini, ex Cinque Stelle, Prodani e Battista, proprio sulla questione ferriera. Un primo risultato sarà il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nell'organismo di controllo. L'aspetto positivo all'uscita di questo incontro è il fatto che la nostra proposta di costituire una sorta di organismo di controllo, in cui facciamo parte anche le associazioni dei residenti di Servola, quelle associazioni che si sono impegnate più in questi anni, credo sia un passo avanti. Le parole di Ervedi andranno insomma valutate alla prova dei fatti. No, non ci tranquillizzano perché siamo un po' stufi da proclami. Quindi adesso aspettiamo i fatti e speriamo che soprattutto anche gli investimenti previsti dall'accordo di programma possano trovare una finalità volta al risanamento ambientale.